Decine di sostituti per la guida dei taxi si sono incatenati stamane in Campidoglio, alla scala dell'Arce Capitolina, per protestare contro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accusato di non avere mai ricevuto negli ultimi due anni la categoria. Tra loro anche Paolo Macioci, presidente del comitato sostituti alla guida taxi di Roma Capitale, che ha annunciato l'inizio dello sciopero della fame dopo essersi legato all'esterno insieme agli altri manifestanti. Chiediamo la tutela dei sostituti alla guida, dichiarato Macioci, hanno deciso di mettere le licenze a titolo oneroso. Purtroppo i sostituti alla guida sono sostituti proprio perché non hanno avuto negli anni la possibilità di poter comprare una licenza. I manifestanti chiedono il titolo gratuito, ma si dicono aperti anche altre soluzioni politiche, visto che Gualtieri potrebbe utilizzare i suoi poteri speciali come commissario al giubileo per indire un bando straordinario e assegnare direttamente le licenze. Il problema, spiegano, è che il sindaco vuole mettere queste licenze a titolo oneroso, ma loro le vogliono a titolo gratuito, una possibilità prevista dal decreto Bersani.